ciao manutentori bentornati nel mio garage siamo qua con la grande punto avevo fatto un video un po di tempo fa dove restauravo il logo anteriore della mia macchina e poi dove mettevo invece un adesivo su quello posteriore perché vedete l'ho restaurato adesso poi ve lo faccio vedere da vicino l'ho restaurato ma mentre quello anteriore è venuto bene questo era richiesto un lavoro un po diverso devo aver sbagliato qualcosa con la pistola ad aria calda per asciugare la vernice si è riempito di crepe e quindi di conseguenza l'ho ricoperto con un altro logo un adesivo che però era molto sottile e faceva il suo lavoro è perché comunque resistente sì però oggi metteremo qualcosa di meglio eccoli qua vedete adesivi resinati by ricco design questi veniamo andati appunto questa azienda che produce non solo questo tipo di adesivi vedete che sono personalizzati fondo nero e scritta argento come d'altronde avevo fatto io col lavoro fai da te purtroppo che non è andato a buon fine loro fanno un sacco di cose andate sul loro sito sulla loro pagina facebook che poi vi linko chiaramente in descrizione del video e vedrete che fanno veramente un sacco di cose nel mio caso abbiamo fatto questa collaborazione e mi hanno fornito gli adesivi sia per grande punto che per fiat tipo nel caso della tipo e vi metto qua il link al video ho fatto una cosa un po estrema perché ho sostituito tutti i loghi fiat con il logo del mio canale mentre qui dato che la usa mia moglie si vergognerebbe andare in giro con il logo del canale non potrei neanche darle torto ho messo delle scritte fiat però personalizzate anziché rosse e grigie nere e grigie queste sono quelle dei tappi delle ruote vedete l'ho già applicata viene bellissima brillante meglio dell'originale direi proprio bella il bello di questi adesivi rispetto a quelli più sottili che forniscono altre aziende è che appunto essendo resinati sono anche oltre che resistenti anche facili da applicare punto se andate a vedere il video che vi ho linkato prima della tipo e comunque lo vediamo adesso tra poco non ci sono grosse difficoltà nell'applicarlo basta stare chiaramente attenti perché una volta che lo si attacca se lo si stacca poi già si comincia a rovinare a perdere l'adesività appunto la colla quindi attenzione che è un lavoro sostanzialmente one shot quindi io andrò ad applicare il logo posteriore qui e quello anteriore no perché appunto avendo l'ho fatto io e essendo orgoglioso di quel che ho fatto comunque dopo per rinfrescare la memoria lo andiamo ad inquadrare farò solo il posteriore che verrà bello brillante e resinato e andrò a coprire questa bruttura avete anche la possibilità eventualmente di togliere la parte perché il logo fiat per chi non lo sapesse è diviso in due parti c'è la parte metallica cromata sottostante la cornice mentre questa è un'applicazione è in resina in plastica la colla che viene usata un biadesivo di sostanza un po gommoso si secca inizia a entrare acqua sole eccetera il rosso sbiadisce la vernice qui si scolora sì sì sembra che ci siano delle bolle come e insomma il logo è da buttare siccome originale costa parecchio e anche non originale non è che te lo regalano se lo trovi e quindi questi adesivi che corrono in nostro aiuto stavo dicendo se lo volete staccare direttamente proprio lasciare il fondo piatto perché rimane il fondo piatto e attaccare l'adesivo sul fondo piatto anziché sulla saponetta chiamiamola con la scritta fiat si può fare ugualmente anche perché se il vostro logo è parecchio rovinato può essere che lo stiate per perdere infatti questo io salvato così un giorno arrivo lo tocco cade se avessi preso la macchina e me ne fosse andato non l'avrete trovato so che molti lo hanno già perso quindi se è rovinato e lo vedete parecchio rovinato prima di attaccarci sull'adesivo andate con un taglierino qui di lato e provate a smuoverlo vedrete che viene via allora in quel caso lo rincollate bene con un po di silicone e poi mettete l'adesivo sopra oppure lo togliete pulite tutto bene sotto il residuo della colla e attaccate direttamente l'adesivo senza il marchio fiat rovinato diciamo che faccia da base viene bene lo stesso come preferite voi chiaramente se voi attaccate questo adesivo che già un po spesso sul logo fiat originale verrà ancora più sporgente che non sta affatto male tra l'altro l'ho già visto sulla tipo se invece togliete questo verrà un po più rientrante decidete come preferite andiamo a vedere l'applicazione ma prima sigla e poi oggi finalmente applicherò anche questo si vede il logo del fiat punto club questo me l'ha mandato il mio amico cosimo amico virtuale perché ci conosciamo solo tramite i gruppi facebook e siamo amici su facebook appunto me l'ha mandato e poi me l'ha mandato ancora un sacco di tempo fa poi mia moglie ha messo a posto le carte questo era dentro una busta che sembrava le buste della banca sparito l'altro giorno cercavo una carta della banca ho trovato l'adesivo del fiat punto club finalmente e lo andiamo a mettere devo decidere dove adesso vediamo comunque andiamo a vedere l'applicazione degli adesivi di rico design ecco da questo close up potete vedere quanto è deteriorato il logo allora lo andiamo a sgrassare bene qui ho messo un po di in questo caso è usato pulitore per freni ma potete usare alcol comunque prima lo pulite da sporco terra polvere pioggia acida e poi lo sgrassate perfettamente con appunto alcol o pulitore per freni o anti silicone se siete avvezzi a questi termini in sostanza comunque importante che sia perfettamente sgrassato e dopo di che possiamo andare ad applicare il nostro adesivo il consiglio che vi do è quello di strappare la carta di supporto vicina proprio ai bordi del nostro adesivo questo ci permetterà di fare un lavoro più preciso anzi nella parte inferiore proprio la vado a strappare proprio lungo il bordo del dello stemma del logo così vedete e ora capiremo il perché chiaramente io parto dalla parte alta lo attacco poi spingendo ora vedete parto la parte alta ma se preferite partire dalla parte bassa è scelta vostra assolutamente vostra quindi andiamo a sollevare la carta quindi quando ho detto che sarei partito dall'alto scherzavo siccome sono riuscito a staccare la carta dal basso partiamo dal basso è uguale quindi a questo punto l'ho proprio scontornato tutto dopo aver sollevato un po' la carta dietro perché in questo modo lo posso centrare bene eccolo qua e capire se sto facendo la cosa giusta allora un tip un suggerimento quando ordinate gli adesivi comunque ci penserà direttamente ricco design a chiedervelo per grande punto abbiamo scoperto anzi hanno scoperto che ne esistono diverse misure così quindi non basta dire ho una grande punto del tale anno è meglio sempre prendere determinate misure con precisione con la maggior precisione possibile io gli ero mandato prese con il calibro ma non tutti hanno un calibro a disposizione faccio un attimo perché faccio il rumore vedete fate sempre uscire l'aria vedete come vado io così cioè una volta è finito cavolo più bello dell'originale se lo vediamo da vicino guardate un po' guardate che lucentezza che ha che è bello proprio è veramente veramente bello diciamo che chiaramente l'unica cosa che manca è l'effetto rilievo della scritta ma è talmente bella e lucente che secondo me chi se ne frega allora vi dicevo quando dovete ordinare cerco di farvi vedere quali sono le misure che vanno prese praticamente va presa questa misura qui dove finisce qui la curva e dove dove cambia curvatura ecco qui in questo caso sono 56,44 poi loro hanno delle banche dati dove hanno le diverse misure gli ho detto è circa 56 e loro infatti me l'hanno mandata giusta poi c'è questa sempre dove cambia curvatura qua questo caso è 45 e poi questa la dimensione maggiore qui vediamo qui quanta è 66 circa ecco queste sono le misure che loro vi chiederanno per essere precisi perché appunto è capitato che uno chiedesse un logo per grande punto e arrivasse poi di dimensioni sbagliate perché le grande punto evidentemente non hanno tutte le stesse dimensioni del marchio è così vabbè ora vi faccio vedere un attimo il logo anteriore che invece ho fatto io eccolo qua questo è venuto decisamente meglio dell'altro e comunque dovesse rovinarsi ho pronto vedete il suo gemello fatto da ricco design che è leggermente diverso ma chiaramente perché non ha il bordino argentato intorno ma nel mio caso gioco forza c'era perché c'era già e l'ho lasciato in questo caso chiaramente sparirà verrà fuori una bella roba lo stesso vedete ora andiamo a vedere l'adesivo della grande punto club qui che era dove ho pensato all'inizio ci potrebbe stare ma potrebbe anche stare dalla parte opposta rispetto al logo simmetria qui lo escludo perché ci passa sopra il tergelo rotto quindi resterebbe o qui dove l'hanno messo in molti o qui lo metto qua bene pulisco il vetro e andiamo ad applicare ho preso come riferimento la linea dell'unotto termico speriamo che che poi l'apparenza sia dritto ok yeah eccolo mi piace bello ci sta bene decisamente grazie ancora cosimo e saluti a tutto il gruppo punto club italia ecco questo vi saluto una cosa che ho scordato di dire questi adesivi il prezzo varia un po in base a alle richieste alla personalizzazione e quant'altro comunque assieme al kit di adesivi ruote più anteriore posteriore vi danno anche un omaggio un circolino da mettere sulla chiave che è sempre utile perché io per esempio quando ho cambiato il gusto della chiave avevo tenuto il marchietto fiat da una parte perché non si adattava avrei dovuto tagliare insomma adesso ci ho messo l'adesivo di rico design quindi con il nostro logo nuovo è il nostro adesivo grande punto club italia io appunto vi saluto vi invito a mettere mi piace al video e iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati su novità venite a visitare anche la mia pagina facebook e utilizzate per sostenere il canale il link che lascio in descrizione per acquistare su amazon voi non spendete nulla di più a me viene una piccola percentuale io vi ringrazio e poi ci sono anche dei link per amazon prime amazon music unlimited se non siete iscritti per iscrivervi e anche delle liste di consigli per gli acquisti sempre su amazon per aiutare il canale alla prossima ciao